ho appena pubblicato amici miei il 47esimo titolo della collana i nostri amici cani razza per razza curata da nicoletta salvatori e ogni titolo è firmato da giancarlo nazari pensate con questo titolo dedicato all'evriero afgano sono 47 l'ebook ciascuno dei quali dedicata ad una razza di cani e devo dire che mi stanno dando molte soddisfazioni questa questa serie di ebook sono piccoli agevoli ricchi di informazioni ricchi anche di foto a colori e ormai hanno una vita lunga e sono quei titoli per così dire da catalogo si dice nel gergo editoriale sì perché sono quei titoli che non sono quei titoli che si continuano a vendere anno dopo anno e praticamente io credo che già con 47 titoli forse stiamo arrivando al record delle collane più longeve e più ricche di titoli dedicate ai nostri amici cani razza per razza andate a guardarli sono 47 i titoli e 47 le razze di cani di cui giancarlo nazari ha parlato magari tra questi titoli c'è la razza di quel cane che amate più di tutti gli altri buona giornata amici